Il 100% Brasile 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 Versiamo A 300m di acqua Il 100% Brasile Il 100% Brasile Il 100% Brasile Il 150% Brasile L'imposizione va tra i due minuti e 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 i due minuti. In particolarità di questo caffè è che il caffè moro racinato resta a contatto con l'acqua per molto tempo e restriera tutti gli aromi che sono del caffè. Grazie per la visione. Grazie a tutti.